Il 5 maggio del 2022 nella chiesa di San Giovanni Bono, che domina il quartiere Barona di Milano, in tantissimi hanno partecipato a quello che doveva essere l'ultimo saluto ad Elena Garini, una signora di 80 anni, amata da tutti i suoi vicini e conoscenti. Ai piedi dell'altare una foto della defunta, ma la bara non c'era. C'era solo la fotografia della mamma e basta. E non c'era la bara? No. Destando tra i presenti una certa inquietudine. Ma chi ha presieduto la funzione? Com'è possibile che si possa celebrare un funerale senza un certificato di morte, senza un morto? Siamo andati alla ricerca del sacerdote della parrocchia, Don Giampiero, attualmente fuori Milano, per un ritiro spirituale. Ci accoglie al suo posto Don Matteo. I funerali vengono celebrati quando c'è il defunto, oppure quando ci sono le ceneri e si dà la benedizione alle ceneri. Ma abitualmente non si può celebrare un funerale senza il corpo, senza la salva. Insieme a lui andiamo a consultare i registri della parrocchia per capire se e quando il funerale di Elena Garini è stato celebrato. Il 5, come ha detto? 5 maggio 2022. 5, 5, 5, 5. Dal 23, 4 al 6, 5. Non c'è stato nessun funerale. Poi c'è stato l'altro funerale, il 12, e l'ha celebrato il parrogo. Il parrogo, quello del 12, 5. Poi passa il 24. Non è registrato nessun funerale. Nessun funerale ufficiale quindi, probabilmente però, quella a cui hanno partecipato i conoscenti di Elena era un altro tipo di funzione, come ci spiega il parroco. Se uno vuole far celebrare una messa per il defunto, come capita ogni giorno. Oggi vengono solo alcune persone, domani potete mettere questa intenzione di pregere. In questi casi espongono anche una foto del defunto? Ma qualche volta, sì, a me è capitato qualche volta di qualcuno che ho conosciuto, ma non è sempre così. Le messe dedicate ai defunti, quelle non vengono registrate? Uno fa l'intenzione, porta il foglietto e poi la suora durante la messa c'è una preghiera di intercessione. Quindi non si può capire se sia stata celebrata una messa commemorativa? No, su questa no.